Palazzina di sole 4 unità, appartamento al secondo ed ultimo piano, garage grande al piano terra con ingresso sul soggiorno, cucina abitabile con balcone, due camere da letto, studio, bagno finestrato con box doccia, completamente ristrutturato in borgo? Ciao sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti accompagno a vedere questo appartamento in vendita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono sicuro che questa visita digitale ti ha incuriosito, perciò contattaci e ti accompagneremo molto volentieri. Ci vediamo in visita!